Non sono molti i luoghi che possono ospitare eventi culturali nella città di Taranto. La presentazione di libri, un cineforum, l'allestimento anche di una mostra. Sarebbe importante che si recuperasse, qualora fosse possibile, per esempio il Circolo Vaccarella che insiste al quartiere Paolo VI, di proprietà un tempo dei sindacati. Il comune, sindaco, l'assessore alla cultura potrebbero recuperare quel luogo tra l'altro ricco di fascino e consegnarlo a tutti coloro i quali operatori culturali e associazioni volessero utilizzarlo e farne un contenitore intelligente di promozione non soltanto della cultura ma del pensiero. Una città che cresce, una città che vuole essere al passo con i tempi, moderna e che faccia leva su processi non soltanto produttivi ma anche economico-culturali, dovrebbe pensare anche a recuperare questi spazi perché possano essere fruiti appieno dalla collettività.